Questo programma è offerto da Pizzeria Okutu Jutsu Alla pizzeria Fast Food Self-Da-Sè Okutu Jutsu di Rocco Battistrada il meglio della produzione mondiale gelese Solo alla pizzeria Okutu Jutsu puoi trovare i più migliori servizi quali Fast Food Self-Da-Sè con l'opzione di asporto ai domiciliari Pizzeria Okutu Jutsu, il vero sinolimo della genuinità basta con tutti questi prodotti confezionati pieni di medicinali additivi chimici e disservanti per la lunga conservazione Smettila di rimpinguare le multinazionali smettila di far arricchire i capitalisti smettila di scegliere i prodotti al supermercato o ai centri commerciali e inizia a sceglierli nella mente Vuoi un'impanata? Vuoi un'arancina? Vuoi un carzone di ottimo gusto? E allora cosa aspetti? Vincina in via Tufano Rosso 80 Pizzeria Okutu Jutsu Et linki Okutu Jutsu